Io devo arrivare in Lapponia, però ho bisogno di una slitta, o almeno di qualcosa che possa volare. Come faccio? Sì, l'ho appena presa. E' una bella macchina, piccolina, ma vola. Sì, sì. Cosa ha detto, mi sposti? No, stavo dicendo che questa qui è una macchina piccola, ma vola. Ma come va? Ma cosa sta facendo? Ma cosa sta facendo? Ma cosa va? Ma come è la macchina? Ma come è la macchina? Ma ha rubato la macchina? Ma signor Natale? Ma come è possibile? Ma è assurda sta cosa? E poi va in giro il giro. Ma non vola! I love you baby!